Ciao, sono Elisa, ho un'attualità tour in provincia di Venezia. Ho deciso di fare il corso di Wedding Dog Sitter perché mi hanno sempre affascinato i matrimoni e abbinati alla presenza del cane sono pazzeschi. Non pensavo però fosse difficile, io pensavo mi aspettavo una cosa semplice, mi aspettavo si trattasse semplicemente di prendere il cane, portarlo alla cerimonia, fare qualche fotografia, portarlo alla festa e riconsegnarlo quando è finito tutto. Invece no, invece quello che si vede da fuori è solo la punta dell'iceberg perché quello che c'è sotto è un'organizzazione da paura. Elisa è grandiosa su questo, l'ha trasmesso a tutta la sua family perché Elisa non lavora con una squadra ma lavora con una vera e propria famiglia. Non me l'aspettavo, è stato un tuffo in quello che fanno loro, ho visto il metodo che usano e mi sono mi sono detta perché non applicarlo anche nella mia azienda, nella torrettatura, ovviamente cambiando qualche puntino del metodo che usano mi è servito tanto. È un metodo guida che va benissimo per tutte le aziende cinofile. Lo consiglio a tutti, il corso, perché appunto ti insegna anche a riorganizzare tutta la tua azienda, soprattutto sei dipendenti. Il lavoro di wedding dog sitter non lo so perché oltre alla responsabilità del cane durante tutta una giornata c'è la responsabilità di far filare tutto liscio nel giorno più bello di una vita degli sposi ed è una cosa che non si può replicare, non è un taglio in toilettatura che se sbagli un ciuffo puoi sempre aggiustare. Ragazzi se si sbaglia al giorno del matrimonio è grave, è grave però con quello che ho imparato lì sono sicura che è impossibile sbagliare perché il metodo che hanno è a prova di bomba e se lo segui fila tutto liscio sicuramente. Si possono affrontare tutti i problemi che possono incorrere in quella giornata e quindi non c'è assolutamente ad aver paura. Quindi ho il corso, lo consiglio veramente a tutti, è una cosa che va fatta anche se poi magari non si decide di non intraprendere la strada di wedding dog sitter, però nel corso io ho imparato tantissime tantissime cose.